Lo shopping serale torna a Lucca a luglio con quattro aperture straordinarie al giovedì. È il tradizionale appuntamento che il centro commerciale Città di Lucca di ConfCommercio dedica allo shopping sotto le stelle. Quattro gli appuntamenti in centro storico a partire da questo giovedì 4 luglio per poi proseguire le sere dell'11, 18 e 25 con negozi aperti fino a tarda ora e possibilità di gustare un aperitivo o cenare in uno dei bar o ristoranti cittadini. Un'iniziativa che funziona e che portiamo avanti negli anni, ha spiegato il presidente del CCN Matteo Pomini. I riscontri sono positivi sia da parte dei commercianti che del pubblico. La nostra città si presta benissimo ad una passeggiata serale accompagnata dalle giuste temperature e dallo shopping con i nostri negozi aperti. Ci auguriamo inoltre, ha concluso Pomini, che saldi possano rappresentare un ulteriore stimolo in più per le persone a recarsi in centro coniugando la bellezza di Lucca e acquisti a prezzi ultra vantaggiosi. Da sabato 6 luglio infatti scatteranno i saldi estivi, come ricorda il presidente interprovinciale di Federmoda, Federico Lanza, che ribadisce ai colleghi di prestare la massima attenzione alle regole legate ai saldi, invitandoli a contattare gli uffici Confcommercio per fugare qualsiasi dubbio.